Al via da stamane per molti studenti l'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, i cosiddetti esami di terza media. Italiano e matematica, le materie che hanno impegnato circa 58.000 studenti nella prova in Valsi, della durata di 2 ore e 30, con una pausa di 15 minuti fra un test e l'altro. Ma vediamo come hanno vissuto la giornata gli studenti all'uscita della prima prova. Il primo giorno di esami, come è andata la prova in Valsi? Bene, più o meno bene. Ti senti soddisfatta? Penso che se il tempo, soprattutto per quella di matematica, fosse stato maggiore, sarebbe stato meglio. Comunque, sì. Prova di italiano domani, come ti senti? Preparato? Preparato benissimo. Hai studiato? Sì, ho studiato molto e mi sento che è facile. Stamattina eri ansiosa prima di entrare o no? Beh, un pochino sì, all'inizio poi. E adesso come stai? Bene, perché erano abbastanza facili, più o meno diciamo. Com'è andato secondo te questo primo giorno di esami? È andato bene, solo che, secondo me, l'emozione, quindi... Oh beh, bene. E per domani ti stai preparando? Come ti senti? Non tanto ansiosa, perché è come se fosse un tema normale. Stamattina come si sono presentati, primo giorno di esami? L'ansia, diciamo, è quasi sempre positiva quando ci sono esami. Comunque era un'ansia, diciamo, tra virgolette, gestita bene. L'ansia normale che c'è in questi casi. Sono ragazzi, ancora non hanno, diciamo, la paura, quella che noi chiamiamo con la P maiuscola. Comunque erano tranquilli. Stamattina qui all'Istituto Comprensivo e Seneto abbiamo iniziato direttamente con la prova nazionale. E la prova cosiddetta, tra virgolette, invalsi. Noi ci siamo sforzati di fare capire ai ragazzi che effettivamente forse è il primo esame della loro vita e che non hanno mai affondato delle prove dove si rispettano le regole, dove non sono ammessi errori. Si continuerà domani con il tema di italiano. Domani abbiamo il tema di italiano, poi si prosegue con le lingue straniere. In questa scuola faranno le lingue straniere, francese e inglese, nella stessa giornata con le due votazioni. Poi la prova di matematica, la fatidica ratifica dei compiti scritti e cominciamo sabato mattina con gli orali. Un consiglio da avere ragazzi? Di affrontarlo con serenità ma con le giuste tensioni, perché è sempre un esame. Grazie. Grazie.